Il rifinanziamento della ricostruzione pubblica con un nuovo stanziamento da 1,7 miliardi di euro, l'introduzione del contratto istituzionale di sviluppo per il sostegno delle attività economiche con una dotazione di 160 milioni di euro, il miglioramento delle norme della dotazione finanziaria per la stabilizzazione dei precari che lavorano alla ricostruzione e il finanziamento fino al 2022 del super bonus 110%, maggiorato nei tetti di spesa e da utilizzare per la ricostruzione degli immobili inagibili in alternativa al contributo di ricostruzione. Sono le novità in arrivo nella legge di bilancio per quanto riguarda la ricostruzione post-sisma nel cratere del centro Italia. Il commissario straordinario Giovanni Legnini si dice soddisfatto del lavoro svolto all'interno della Commissione Bilancio della Camera. Manca però la proroga di alcuni termini che scadono a fine anno, come le agevolazioni fiscali sulle bollette e l'esenzione IRPEF sugli immobili inagibili. Ma, dice Legnini, siamo fiduciosi che vi si provvederà con il decreto mille proroghe di fine anno. Il testo della legge oggi è all'esame dell'Aula di Montecitorio. Il complesso di queste misure, dice ancora Legnini, assieme a quelle varate nei mesi scorsi, oltre alla concreta prospettiva di utilizzare importanti risorse come il recovery plan, delinea un quadro nuovo e molto favorevole degli strumenti a disposizione della ricostruzione. Con le ordinanze commissariali, aggiunge ancora Legnini, che hanno radicalmente innovato le procedure della ricostruzione pubblica e privata, nel 2021 si potrà rafforzare la svolta già impressa a questo processo e finalmente creare anche le condizioni per la ricostruzione del tessuto economico, produttivo e sociale dei territori colpiti dal sisma.